Emergenza coronavirus, la Calabria torna a zero contagi, i positivi restano 1180. Francesco Bevere è il nuovo direttore generale del Dipartimento tutela della salute, politiche sociali e integrazione sociosanitaria, lo ha deciso l'Aggiunta regionale. Pippo Calipo si dimette da consigliare regionale, intanto la minoranza disterta l'aula, sul banco degli imputati, l'elezione dei vicepresidenti di commissione. Calcio fra poco in campo la Serie B, il Crotone impegnato ad Ascoli, il Cosenza ospita il Trapani.